Era nell'aria e purtroppo si è avverato, anche il contrasto all'emergenza pandemica è solo una questione di soldi. D'altra parte è questo il credo imperante in tutte le multinazionali anche farmaceutiche per cui a far muovere il mercato sono i prezzi cui ognuno è disposto a pagare mettendo in secondo e forse ultimo piano la salute e la vita degli individui. Appare evidente che un'organizzazione di una campagna vaccinale avrebbe dovuto ipotizzare che già dal primo momento si doveva garantire a distanza di 20 giorni i richiami mettendo in depositi se non proprio il 50%, almeno il 30-40%. Dubitiamo che ciò sia avvenuto. La gara era chi ne faceva di più. Anche tra tutte le strutture sanitarie pubbliche e la stessa regione tirava lo sprint per vincere una gara solo ed esclusivamente mediatica e chi era il migliore incurante del rischio che si poteva correre speriamo che da subito si provveda a conteggiare e a prontare scorte atte a garantire la continuità delle vaccinazioni altrimenti il rischio che si corre e che tutta la fase possa venire invalidata per mancata continuità assistenziale. In questi casi pur consapevoli che il mancato approvvigionamento non è imputabile alle strutture sanitarie e qualora tale eventualità possa verificarsi sulle stesse corre l'onere di non aver programmato adeguatamente i richiami e questo è sicuramente una grave colpa in capo ai responsabili dei team vaccinazioni covid creati all'occorrenza e tutta la ipotetica improvvisazione ed approssimazione messa in campo.